Un passo falso diciamo alla piccola di domenica che ci ha portato qualche punto in meno, però oggi abbiamo reagito bene. Sì, come detto, siamo calati un po' di tensione e non deve succedere una squadra come la nostra. Dobbiamo sempre stare fino al 90, anzi al 95 concentrati per evitare questi eviti. È difficile quindi gestire questi momenti in campionati che, come abbiamo visto domenica scorsa, possono riservare anche delle spiacevoli sorprese. Sì, è difficile, tra virgolette, perché comunque noi siamo una squadra che è abituata, siamo giocatori che abbiamo abbastanza esperienza e quindi dobbiamo essere bravi a gestire questi momenti, a gestire magari l'errore dell'arbitro, l'errore del compagno che ci può stare e solo così possiamo portare a casa il campionato che, secondo me, ha la nostra fortuna, anzi. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.